Mister, quanto le hanno dato fastidio in questa settimana tutte queste voci sulla Serie B, sulla vittoria del campionato, su quello che potrebbe essere? No, fastidio no. A me mi fa piacere che i tifosi, la gente di Teramo, voglio dire, ci hanno entusiasmo, che è una cosa di cui abbiamo bisogno sabato noi per battere il Forlì. Infatti la prima cosa che voglio dire è quello di stare vicino alla squadra, di incitarli, di dargli quella carica importante per cercare di dare il meglio di loro stessi ai giocatori che scendono in campo. Mentre invece dentro lo spogliatoio noi dobbiamo pensare partita per partita, dobbiamo essere bravi ad affrontare il Forlì nel miglior modo possibile. Adesso troveremo una squadra molto molto organizzata ed è per noi una partita diversa perché veniamo da tre partite che abbiamo trovato squadre che ci concedevano spazio. Abbiamo avuto un atteggiamento diverso e avevamo delle facilità per quanto riguarda giocare. Mentre invece contro il Forlì io adesso già li ho bisognati, con il cambio di allenatore hanno trovato una compattezza, è una squadra molto corta, molto aggressiva. Preparano un pochettino tutti gli aspetti della partita, dalla pressione alta, dalla linea alta, difensiva. Quindi dobbiamo adesso subito preparare le giocate, subito entrare nell'ottica di questa squadra e cercare di metterli in difficoltà il più possibile. E in queste giocate magari inserire l'ultimo arrivato, vale a dire Milicevic? Ma no, lui viene da dei problemi sotto l'aspetto fisico perché viene da un crociato e da un problema al metatarso del piede, una frattura al metatarso. Quindi a livello di condizione atletica deve ancora crescere tanto e poi anche a livello tattico, a livello di movimenti, noi siamo una squadra ben collaudata. Adesso deve capire i meccanismi, deve capire i movimenti da fare sia in fase di possesso che in fase di non possesso, quindi ci sta ancora del lavoro da fare. Sul resto della formazione invece che scenderà in campo sabato sera, qualche anticipazione si può dare? Purtroppo abbiamo un po' di problemini, problemini diciamo fisici, la Padula bisogna vedere un attimino come sta perché ha preso una botta ieri nella partita e ieri sera ci aveva male al piede, quindi vediamo un po' come sta. C'abbiamo a Maddio che si è bloccato con la schiena, però penso che non sia niente di particolare, ecco siamo un attimino un po' così, però penso che poi chiunque scende in campo faccia il meglio di se stesso.